Un poliziotto di 37 anni è morto a Napoli in uno scontro con una macchina di rapinatori che in fuga contro mano ha travolto la sua pattuglia. L'incidente è avvenuto nella notte. Gli agenti del commissariato di Secondigliano, ovvero la vittima che era alla guida e un collega rimasto lievemente ferito, erano stati allertati per un tentato furto alla filiale della banca accredita Agricol, un tentativo di forzare il bancomat che non era andato a buon fine. I due poliziotti erano alla ricerca dei rapinatori quando la loro auto li ha incrociati mentre arrivavano ad altissima velocità e contro mano. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo. La parte anteriore dell'auto della polizia è completamente distrutta, il parabrezza sfondato, il motore dell'auto dei rapinatori è volato fuori. L'agente alla guida è stato trasportato in ospedale, in ambulanza, ma è stato inutile. I rapinatori sono stati arrestati.